L'isola dei famosi sta giungendo al termine, domani mercoledì 12 aprile 2017 andrà in onda la finale e finalmente sapremo chi sarà il vincitore di questa edizione 2017 tra i 7 naufraghi rimasti, ovvero il grande favorito Raz de Gun, Simone Susin, Nancy Coppola, Malena e Deva Grimaldi. I fan di Raz de Gun, però, sono in allarme. Sì, perché alcune stranezze negli ultimi giorni hanno fatto pensare a un televoto pilotato, ma è davvero possibile, prima parte. Il pubblico acclama Raz de Gun come unico vincitore, e soprattutto, ammesso e non concesso che il reality show sia pilotato, che male ci sarebbe nel lasciar vincere Raz de Gun, che è stato a tutti gli effetti il grande protagonista, probabilmente l'unico, assieme a Samantha DeGranet, di questa isola dei famosi 2017. Se non vincesse ci sarebbe una vera rivoluzione dei telespettatori, e persino la DeGranet, sua cerrima nemica, più volte si è augurata pubblicamente la vittoria di Raz, affermando che se questo non succedesse lei protesterebbe. Perché attualmente DeGranet è l'unico a meritare la vittoria. Seconda parte chi è il vero rivale dell'ex modello israeliano, sta di fatto che attualmente Raz non sembra avere antagonisti credibili, visto che tutti i suoi colleghi finalisti sembrano chi più, chi meno essere fortemente antipatici ai telespettatori. Malena e Nancy, soprattutto, sono state sempre fischiate e accusate di doppio gioco. Quest'ultima settimana, poi, ha segnato anche il definitivo tracollo della popolarità di Eva Grimaldi, che è stata molto mal vista poiché assieme a Nancy e Malena complottava contro Raz. Simone non è mai piaciuto al pubblico di Canale 5, e la sua vittoria sarebbe ugualmente assurda. Ultima parte, i sospetti sul televoto. Ma allora di che complotto parlano i fan di Raz? In realtà la maggior parte di loro non si spiega come Eva Grimaldi, acerrima nemica di DeGran, abbia potuto trionfare al televoto con Giulio Base, che invece negli ultimi giorni aveva legato con il modello israeliano, mostrando di apprezzarlo moltissimo per i suoi ragionamenti e soprattutto per le esperienze di vita. Il televoto è stato dunque un po' pilotato, e, se sì, lo sarà ancora, secondo noi no, e secondo voi, diteci la vostra.